Saranno i tifosi a degretare, come in un vero e proprio talent show, il gruppo di lavoro che consegnerà la nuova maglia dell'Orlandina Basket, una sfida che da mesi tiene incollati appassionati di basket e di moda di fronte ai social sui quali vengono pubblicati i video del duello tra Shield e Sword, i due team composti dagli studenti dello IED, l'Istituto Europeo di Design di Milano, che da otto settimane lavorano alle nuove uniformi della squadra bianca-azzurra. Dopo due mesi di lavoro che hanno visto gli studenti impegnati nella ricerca, nel brainstorming, nel confronto tra idee, nella creatività e nel design, ora è il momento della decisione. Tramite il contest Not Only T-Shirt sarà dunque possibile votare il kit 2016-2017 che verrà indossato da Diner, Arci, La Quintana e tutta la squadra nella prossima stagione sportiva. Per votare basta recarsi sul sito internet www.notonlytshirt.it e seguire le istruzioni. In palio, per i partecipanti, la possibilità di vincere due posti in parterre per la prima gara di campionato e di seguire la conferenza stampa post-match tramite l'estrazione che avverrà durante l'evento di presentazione della squadra che si terrà nel mese di agosto a Capodorlando.